Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice, lavoro nello spettacolo e nella cultura e ho partecipato a Senza Confini nel 2018 mi pare. Ho un ricordo molto bello di questo progetto che spero possa riprendere al più presto e abito a Faenza e le difficoltà che sto affrontando sono quelle immagino di tutti quanti, cioè di non poter svolgere appieno il proprio lavoro e quindi un po' la frustrazione di non poter lavorare dal vivo, il contatto con le persone mi manca tantissimo, lo spettacolo, il confronto con gli altri, il casino, il rumore, un sacco di cose che in alcuni momenti possono sembrare troppo, adesso mi mancano moltissimo e quando ci rivedremo sono una persona ottimista quindi succederà presto spero e sarà bellissimo. Un abbraccio a tutti quanti, ovunque voi siate e buona fortuna, ciao! Ciao! Ciao!